Allora ragazzi, oggi parleremo dell'arte bizantina. Con il termine arte bizantina ci riferiamo a tutta la produzione relativa all'impero di Bisanzio. Il periodo di cui parliamo è piuttosto vasto, perché va fra il IV secolo e il XV secolo d.C. Per quanto riguarda l'Italia, invece, questa definizione ha un tempo più limitato. Va dal VI all'VIII secolo d.C., cioè nel periodo in cui l'impero bizantino ha avuto una forte influenza in quanto aveva dei territori in Italia e quindi ha elargito, diciamo così, le proprie caratteristiche dal punto di vista artistico. I principali caratteri che vi dovete ricordare dell'arte bizantina sono l'uso della chiesa a pianta centrale con cupola e il fatto che la pittura e la scultura sono concepite fondamentalmente come ornamenti dell'architettura. Il massimo esempio di quest'arte, io vi ho messo anche una foto, è proprio Santa Sofia a Costantinopoli per farvi capire la bellezza delle decorazioni interne, soprattutto, e la vastità della dimensione di questa chiesa. Ormai è trasformata in una moschea, ma era nata come una chiesa. Nel 395 l'impero bizantino viene diviso in due parti, l'impero romano d'Oriente, con capitale qui a Costantinopoli, l'attuale Istanbul, e l'impero romano d'Occidente, con capitale Ravenna, che è qui. L'arte bizantina fiorisce soprattutto nella città di Costantinopoli ed è una cultura molto raffinata. Perché? Perché è l'espressione di un potere molto forte. Consigliatevi, ho detto che abbiamo dal IV secolo d.C. al XV secolo, quindi sono più di mille anni, in cui quest'impero ha prosperato sotto una guida sempre molto ferrea, molto forte, di un imperatore, che tra l'altro veniva identificato come una volontà divina sulla terra. Per cui l'arte bizantina è sempre molto legata all'aspetto religioso. Ed è così che Ravenna diventa, essendo la capitale dell'impero romano d'Occidente, divenne la capitale e quindi ovviamente viene abbellita di notevoli edifici. L'architettura, proprio qui, diviene un supporto per la scultura e la pittura. Gli esterni sono sempre piuttosto semplici, poi lo vedremo meglio, mentre gli interni sono spesso decorati con ricchi mosaici e molti affreschi. Nel V e nel VI secolo Ravenna fu la più importante città d'Italia. La sua storia la dividiamo in tre periodi. Io vi chiedo soltanto questo. Il primo periodo, che è quello in cui fu abbellita da monumenti grazie a Galla Placidia. Un secondo periodo, in cui torna sotto il dominio barbaro con Teodorico il Grande. E l'ultimo periodo, quello di Giustiniano, quando tornerà sotto l'influenza bizantina e poi diviene capitale dell'esarcato. Vediamo il primo monumento. Allora, abbiamo il mausoleo di Galla Placidia. In tutti gli edifici del periodo bizantino, soprattutto a Ravenna, vediamo un forte contrasto fra la povertà dell'esterno, che presenta semplicemente una serie di mattoni con una serie di archetti e piccole modanature, e la ricchezza degli interni, che sono sempre ricoperti di splendidi mosaici e di marmi. La spiegazione e la motivazione di questa differenza è dovuta a un aspetto religioso, perché in questo periodo l'edificio doveva essere fatto immagine e somiglianza dell'uomo e l'involucro esterno dell'uomo sicuramente deve essere meno importante dell'anima, della vera bellezza dell'uomo, che è data non dall'aspetto esteriore, che tra l'altro è suscettibile di decadimento, ma la bellezza interiore, lì dove c'è la sua anima. Qui vi mostro delle fotografie dell'interno, la cupola centrale con questo cielo stellato, con i quattro evangelisti agli angoli e la croce al centro. Lungo le quattro volte a botte dei quattro bracci troviamo motivi geometrici e floreali, con delle tessere talmente piccole da far sembrare il tutto degli affreschi. Le finestre sono in onice, vi avevo già detto durante la lezione. La parte basamentale è completamente rivestita di marmi preziosi. Sul vostro libro, l'affresco che riporta e che analizza è quello del Gesù Buon Pastore. Qui vi parlo di soggetto di tipo religioso, perché il soggetto del mosaico in questo caso è Gesù, che secondo la parabola evangelica è il Buon Pastore, circondato dal suo greggio, cioè dai fedeli che si riuniscono intorno a lui. Gli attributi iconografici, cioè che identificano questo come Gesù, sono la croce, simbolo del suo sacrificio, e l'aureola, che lo legano, questa aureola, questo cerchio di luce dorata, che lo lega al mondo del divino. È rappresentato come un giovane seduto su una roccia, circondato dalle sue pecore, a cui accudisce con affetto, tant'è che a una addirittura accarezza il muso, e vestito con una tunica semplice, tipica dell'epoca romana. Adesso andiamo a vedere un altro monumento del periodo bizantino a Ravenna, ed è appartiene al secondo periodo, quindi il primo era di Gallapalacia, il secondo periodo era di Titeodorico, che pur essendo un re barbaro, amminava moltissimo la civiltà romana, e si era convertito al cristianesimo. Durante il suo regno fu costruita questa bellissima basilica, la basilica di Santa Pollinare Nuovo. È una chiesa ad aula, vi ho messo la planimetria, con tre navate, di cui la centrale è doppio di quelle laterali, con una serie di colonne, con capitelli, che vedete non hanno più, come ha fatto notare Enrico in una lezione, un ordine vero e proprio, non sono né corinzie, né ioniche, né doriche, con il pulvino, una serie di archi, una cornice, una fascia decorata, sia a destra che a sinistra, che sarà quella che guarderemo con più interesse, e le vetrate nella parte superiore. Le volte, scusatemi, le capriate sono coperte dal soffitto a cassettoni. Guardiamo ora i mosaici rappresentati lungo queste fasce. sono la processione delle vergini e la processione dei martiri, realizzati con tessere piuttosto piccole, con una ricchezza di dettagli e di decorazioni nei vestiti, soprattutto per le donne, ma con le figure quasi tutti uguali. alle loro spalle c'è il fondo d'oro e la parte basamentale, il verde che rappresenta il terreno. La spiegazione è anche di queste cose di tipo religioso, cioè di fronte a Dio gli uomini sono tutti uguali, variano leggermente soltanto i volti, soprattutto in alcuni che sono identificabili con un martire preciso, e la luce divina è rappresentata da questo fondo oro che illumina gli uomini e le donne sulla terra. Un altro monumento che volevo farvi vedere è il Mausoleo di Teodorico. Abbiamo detto che Teodorico ammirava molto l'architettura romana, ma che non c'erano più maestranze in grado di realizzare cupole di grandi dimensioni. lui fa realizzare questo edificio a pianta decagonale, quindi a dieci lati, con un basamento con degli splendidi archi a tutto sesto, con delle pietre che indicano grande forza, grande possenza, e la parte superiore leggermente arretrata, e poi si trova a dover coprire con una cupola questo ambiente. Non avendo possibilità di realizzarla in muratura o in mattoni, fa realizzare un'unica pietra gigantesca di 11 metri di diametro scavata a forma di cupola. Gli elementi che vedete qui, queste specie di sporgenze, sono ciò che resta della struttura necessaria per poter sollevare questo enorme blocco di pietra che pesava circa 230 tonnellate, e sollevarlo e posizionarlo con esattezza quasi millimetrica al di sopra dell'edificio. Andiamo all'ultimo periodo di Ravenna, dove troviamo San Vitale. La basilica di San Vitale è fatta sotto Giustiniano ed è forse il capolavoro di Ravenna, sia per l'architettura molto complessa che per i mosaici. La pianta qui è a base ottagonale. Il nartece, che vedete qui, si chiama forcipe, ha anche delle sedre laterali con delle scale, non è posizionato in asse con quello che è l'abside dove si troverà l'altare, ma è messo di sbiego ed è messo tangente a uno spigolo dell'ottagono. In questo modo si creano un primo spazio, che è il nartece, un altro spazio di mezzo e poi si entra in chiesa e si entra sempre in una maniera tale da essere disorientati all'interno della chiesa. Al centro c'è un grande ambiente con una grande cupola circondato da tutta una serie di sedre, vedete questi cerchietti con delle colonne, che alleggeriscono la massa struttolare ma creano una impossibilità di leggere l'ambiente in maniera unitaria. All'esterno, come sempre, si presenta in maniera spoglia, all'interno troviamo un tripudio di marmi di vari colori, con intarsiate, con vari tipi di intarsi e poi mosaici e affreschi. Il ripetersi delle sedre, delle colonne e delle zone dietro le sedre non permette al visitatore di percepire la struttura vera e propria ed è tutto fatto per alleggerire il peso delle masse strutturali, incluso l'utilizzo del pulvino, quell'elemento che abbiamo visto, vi ho detto, anche prima in Santa Pollinare Nuovo. Il pulvino non è nient'altro che un capitello sopra il capitello. ha però una forma a tronco di piramide rovesciata, molto semplice e spesso decorato. Anche qui i capitelli non hanno più alcun riferimento a un ordine architettonico, ma sono stati realizzati a Bisanzio e, come tutta l'arte bizantina, c'è questo desiderio di decorazione molto raffinata, molto elegante, che sembra quasi un merletto, una trina. La parte più bella è sicuramente la zona dell'abside, dove troviamo, proprio vicino all'altare, la processione di Giussiniano e Teodora, che portano reciprocamente il pane e il vino per la messa. Guardate anche il resto, le decorazioni sempre a mosaico con al centro qui Gesù circondato dai dodici apostoli e sopra invece racemi di fogliame, di piante. Addirittura Giussiniano fece arrivare delle maestranze da Costantinopoli affinché tutto fosse realizzato secondo i suoi desideri. Qui, nei mosaici, le figure hanno una simmetria molto verticale. I corpi sono piatti e i panneggi sono semplicemente delle linee dritte. In entrambi i mosaici, gli imperatori sono evidenziati rispetto agli altri grazie ai vestiti. Nel caso di Giussiniano, lui è anche il centro prospettico e percettivo di tutta l'immagine. Le scene sono piatte, come per le processioni realizzate a Santopoli in Ore Nuovo, troviamo soltanto il verde che indica il terreno e la luce divina che indica lo sfondo. L'imperatore non può essere coperto da nessuno, quindi pur stando dietro in base ai piedi a Massimiano, che è uno dei pochi della sua corte che è indicato con un nome, non viene coperto dal suo braccio. Le tessere sono tutte di materiali pregiati, madreperla per i vestiti, vetro dorato e smalti per indicare gli altri colori con contrasti molto forti. Domina su tutti l'oro, cioè la luce dorata divina. Nel pannello di Teodora l'imperatrice ha la stessa importanza dell'imperatore. Anche lei è stata una donna che ha aiutato molto il marito nella gestione dell'impero. I volti delle donne di corte, così come degli uomini accanto a Giustiniano, che fanno parte della loro corte, sono tutti riconoscibili, hanno tutti dei volti più differenziati. Invece le ancelle e i paggi hanno i volti tutti uguali, perché è una giustificazione il fatto che sono personaggi meno importanti e quindi non hanno una caratterizzazione. I volti di Giustiniano e Teodora sono circondati da un'areola che sta ad indicare la loro santità e soprattutto quindi il loro potere religioso oltre che politico. Finito qui, vi auguro, spero di avervi detto tutto, quello che ho detto durante la lezione, ci vediamo martedì. Ciao!